Un career day per avvicinare i giovani alle professioni del mare che ha visto la partecipazione delle principali compagnie di navigazione aderenti all'assarmatori. L'evento si è svolto questa mattina presso la sede dell'incubatore Stecca nell'area degli ex molini meridionali Marzoli a Torre del Greco. Una mattinata dedicata alla formazione e all'orientamento che ha visto la partecipazione anche di rappresentanti istituzionali. È stato veramente un piacere essere qui. Oggi credo che contribuiamo su un percorso di riappropriazione da parte della città della vocazione marittima. Credo che questo tipo di sinergia con Assuarmatori ma anche con altre istituzioni, immagino Regione Campania e quante altre, sia necessaria per invogliare nuovamente i nostri ragazzi a poter scegliere la via del mare. Sono davvero contenta che questo evento si sia svolto a Torre del Greco perché la nostra capitaneria è una delle capitanerie con il maggior numero di iscritti insieme a Napoli e Genova. Sono anche contenta di vedere tanti ragazzi presenti che hanno voglia di iniziare a navigare. Conosco cosa vuol dire il mestiere del mare per cui davvero li sento vicini, sento come se fossero miei figli e i miei successori di quella vita che ho fatto a bordo per tanti anni. E cosa vuol dire il mestiere del mare? Il mestiere del mare vuol dire sacrificio prima di tutto ma anche passione e volontà perché è così sacrificata la vita per mare, la lontananza da casa e dagli affetti che se non si ha la passione, la vera voglia di navigare, è un mestiere che non è possibile fare. Ma i giovani oggi scelgono ancora questa professione o qualcosa che appartiene alle vecchie generazioni? I ragazzi ancora scelgono questo mestiere, non è certamente come una volta perché il personale più vecchio faceva sacrifici, conosceva il sacrificio, i giovani di oggi hanno meno voglia di sacrificarsi, però comunque ce ne sono tantissimi di iscritti nelle varie categorie che vogliono intraprendere questo percorso. Serena Cantoni della Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stamattina qui a Torre del Greco per questa giornata di orientamento dedicata ai giovani verso la professione marittima. È molto importante per noi del Ministero, il Governo ha stanziato 7 milioni di euro da erogare dal 2023 al 2026 proprio per formare giovani marittimi sia ufficiali che dell'hotellerie che c'è una grave carenza da parte, ci dicono gli armatori di queste figure, quindi per ripopolare le navi di equipaggi italiani il Governo si è mostrato sensibile stanziando questi fondi. Una professione che richiede molti sacrifici, ma come avvicinare i giovani oggi? Come avvicinarli? Sicuramente formandoli, sicuramente è una professione che richiede molti sacrifici ma dà delle ottime opportunità di carriera che con i lavori a terra forse stentano un po'. Quindi sì, difficile ma ripagati, le difficoltà ripagate. Un'occasione rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e a tutti coloro interessati ad avviare una carriera lavorativa a bordo delle navi. Grande la partecipazione dei ragazzi che hanno avuto anche la possibilità di incontrare e colloquiare con i referenti delle compagnie di navigazione. Questo evento è il secondo che abbiamo organizzato a livello nazionale, ce ne saranno degli altri. Come è noto l'obiettivo principale è quello di fornire un supporto al settore che oggi lamenta una fortissima carenza strutturale di professionalità del mare. L'evento di oggi rappresenta un po' la messa a terra di un percorso virtuoso intrapreso con l'amministrazione e con tutte le parti sociali per consolidare il settore e trovare delle risorse in grado di traghettare un po' le compagnie attraverso questa transizione tecnologica forte che ci attende. Come avvicinare i giovani alla professione del mare? I giovani hanno bisogno di sicurezza, questa è la cosa fondamentale. La sicurezza si dà a spiegare loro bene, spiegare loro esattamente cosa vanno a incontrare a bordo, i lavori da svolgere, paghe eccetera eccetera. Quali sono le figure che più mancano a bordo delle navi? Le figure che mancano a bordo soprattutto sono, diciamo come chiamiamo noi in gergo, alla bassa forza, quindi persone piccole di camera, garzoni di camera, piccoli di cucina ed eccetera, ma anche le qualifiche professionali come cuochi, cuochi equipaggio, mancano a bordo, manca proprio tutto il settore hotel e quindi cerchiamo questo. Ho visto una bella partecipazione dei ragazzi qui a Torre del Greco e come ho detto che senza i ragazzi di Torre del Greco, i marittimi passati, i presenti e i futuri, non ci sarebbero stati navi che navigavano nel Mediterraneo perché l'80% dei marittimi sono di Torre del Greco e quindi prima come colleghi, adesso come ragazzi che arrivano a bordo voglio ringraziarli tutti personalmente, proprio da Troiani Roberto. C'è stata una straordinaria partecipazione da parte delle scuole, scuole di Torre del Greco, dei comuni dell'area vesuviana, noi abbiamo esteso il nostro invito a tutti i comuni della provincia di Napoli concentrandoci su istituti ovviamente nautici, professionali, istituti tecnici e con particolare riferimento anche agli istituti alberghieri. Mi sento anche di ringraziare tutti quelli che hanno partecipato alla diffusione dell'iniziativa, tra in particolare gli servizi regionali del lavoro, sviluppo lavoro Italia, che hanno partecipato alla diffusione dell'informazione anche attraverso i loro canali costituiti dai centri per l'impiego e le agenzie per il lavoro. Oggi qui insieme ai rappresentanti delle compagnie di navigazione, anche rappresentanti istituzionali. Ringraziamo innanzitutto il Ministero per la presenza ma soprattutto per la creazione di questa straordinaria opportunità che favorisce l'ingresso verso le professioni del mare perché con uno strumento anche economico agevola la partecipazione ai corsi di formazione obbligatori per l'accesso alle professioni del mare, la Capitaneria di Porto che chiaramente non poteva mancare in un'iniziativa come questa ma noi soprattutto ringraziamo il Comune di Torre del Greco che ha sposato fin da subito la nostra visione di incubatore del mare. Noi siamo un incubatore che cavalca quelli che sono i settori economici di Torre del Greco quindi la vocazione marittima e la vocazione verso l'economia del mare non poteva non essere punto cardine della nostra azione.